buongiorno ciao amici colleghi italiani un saluto da parigi oggi farò un gioco di magia e poi ve lo spiego questo gioco avete bisogno un cono che potete vedere vuoto guardate vuoto e avete bisogno un biglietto invisibile se non avete il biglietto invisibile chiamate l'uomo invisibile uomo invisibile vieni qui è là buongiorno uomo invisibile lo vedete è invisibile va bene scusi uomo invisibile può mettere un biglietto dentro sì un biglietto invisibile grazie mettetelo grazie lo vedete no normale ed è invisibile adesso facciamo la magia magia contro virus e avete un biglietto di un dollaro eccolo qua un biglietto di un dollaro ecco un cono vuoto vedete eccolo qua è un foglio bianco è scritto qualcosa no 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 chiudete lo mettete nel cono dentro eccolo qua e poi fate sempre magia contro virus e come per magia aprite la carta e c'è scritto restate a casa grazie per fare questo gioco avete bisogno un foglio a 4 bianco da tutte le due parti lo stendete sul tavolo e lo piegate in due poi aprite avete già una piega al centro e adesso facciamo la seconda piega prendiamo questa parte e la pieghiamo fino al centro così poi girate dall'altra parte e facciamo la stessa cosa con questo l'altra metà del foglio piegate così ecco adesso la linguetta che esce dalla mia parte qua la pieghiamo fino al centro così ecco ecco e finiamo con l'altra parte uguale dalla stessa cosa e adesso chiudete così e passate le due mani così abbiamo quasi finito adesso riaprite e uscite solamente una linguetta una e chiudete l'altra parte adesso dobbiamo mettere questa linguetta dentro questa taschina piccola qua che questa carta si va incastrata da solo fino alla piega che abbiamo fatto già prima eccolo qua e adesso vi faccio vedere come funziona allora voi avete una tasca qui si chiudiamo e giriamo abbiamo una seconda tasca uno due preparazione un biglietto lo mettete dentro e chiudete e girate dall'altra parte fate vedere il cono vuoto con il pollice d'indice tenete di dietro questa parte qua così sarebbe per il pubblico davanti così e contato a 3 magia contro virus mettete la mano di sotto e aprite l'altra parte e la avete il biglietto grazie